La questione dell'esame di Stato in presenza o a distanza sta diventando un vero e proprio caso politico, anche se per la verità le posizioni che stanno emergendo sono sempre più trasversali. Nella giornata di mercoledì 22, rispondendo al question time che si è svolto alla Camera, la ministra Lucia Azzolina ha affermato. Auspico che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l'orale in presenza, ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti. Ma a chiedere che la prova d'esame si svolga in presenza sono in tanti e anche con maggiore insistenza della ministra stessa. Gabriele Toccafondi di Italia Viva sottolinea che l'esame di Stato è un passaggio educativo fondamentale e aggiunge spero che sia lasciata autonomia alle scuole e alle commissioni e che non arrivino troppe indicazioni dal ministero. Secondo il deputato di Italia Viva si potrebbero svolgere gli esami in piena sicurezza con la presenza nell'aula di un solo studente oltre alla commissione. Anche la ex ministra Valeria Fedeli è intervenuta per dire l'esame di maturità in presenza credo sia fondamentale e mi auguro davvero che si possa fare. Sarebbe importante anche pensare a quello di terza media, bisogna organizzarsi per tempo. Eppure il senatore Salvini, leader della Lega, invoca da tempo la necessità dell'esame in presenza, anche come rito di passaggio che da sempre segna l'ingresso degli studenti nella età adulta. Ci sono però posizioni molto diverse, difese soprattutto da movimenti, associazioni e gruppi Facebook. Non pochi lettori ci hanno scritto per evidenziare che non esistono oggi dispositivi di protezione adeguati che possano impedire la diffusione del contagio, senza considerare, come la nostra testata ha già scritto, che se in una scuola si dovesse verificare un caso di positività, si dovrebbero sospendere gli esami e mettere in quarantena studenti e commissari. Associazioni e gruppi Facebook sottolineano la necessità di garantire giuste condizioni di sicurezza, cosa peraltro quasi impossibile, soprattutto in quelle regioni come per esempio la Lombardia e il Piemonte, in cui il rischio di contagio è ancora molto elevato. In alcune scuole, in occasione degli esami, si potrebbe registrare la presenza addirittura di 100-150 fra studenti e docenti, con conseguenze facilmente immaginabili. Intanto al Senato ha preso avvio la discussione sul Decreto Legge 22, che definisce appunto le nuove regole dell'esame di Stato. Vedremo nei prossimi giorni se dal dibattito parlamentare emergerà qualche novità. Sul tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi voi continuate a seguirci sia su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadelascuola.it e soprattutto scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.